Verde Menta Disco Ice, tutti i venerdì in diretta su RWE, dalle 23, set by Giallo DJ, Iaco DJ, voice Raffaella Lattanzi. Verde Menta Disco Ice, a Senigallia, lungomare Dante Alighieri 9. Verde Menta Disco Ice. Venerdì 14 giugno, special guest Cristiano Carriere. Che ritorni nelle notte insonni. Grazie a tutti.